Il sequestro del sito di compostaggio di Eboli era nell'area come il cattivo odore. Commenta così legambiente che da tempo osserva la gestione dell'impianto. Non è sovraccaricando le strutture esistenti che si risolverà l'annosa vicenda della carenza di impiatti che trattano la frazione organica. I giudizi negativi e la preoccupazione dei cittadini si concretizzano in presenza di impianti gestiti male, come quello di Eboli, a discapito della realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'organico. dei quali invece la regione Campania deve dotarsi urgentemente. Sulla stessa scia la deputata Cinque Stelle Villani. Il sequestro afferma è una risposta ai tanti disagi subiti da troppo tempo dai cittadini di Eboli e Battipaglia. Abbiamo subito iniziato la nostra battaglia dalla parte della gente e sono arrivati i risultati. Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, ha così commentato la notizia del sequestro dell'impianto di compostaggio. La società che gestisce l'impianto aveva già adempiuto alle prescrizioni di allora. Ci sono altre piccole prescrizioni degli ultimi dati che sono stati degli ultimi controlli e stanno adempiendo come avevano già garantito. Sinceramente credo che questa cosa possa servire soltanto a migliorare l'utilità dell'impianto. Io ritengo che la magistratura debba fare il suo percorso, come appunto ho dichiarato già nel 2017, però sono anche certo del lavoro importante che sta facendo la società Ladurner e dei controlli che sta facendo il tecnico nominato da Comune di Eboli. Continuo a insistere nel percorso importante che sta facendo l'amministrazione comunale, che è quello di una sanificazione importante e complessiva non solo dell'impianto, ma anche di quello di un intervento comprensivo su tutto il territorio, che è quello appunto anche delle norme di attuazione che stiamo mettendo in campo per evitare casi simili. Grazie a tutti.